Buonasera e bentornati a Iulo, l'arte per l'arte. Questa sera riprenderemo il nostro cammino con gli etruschi ed entreremo proprio nelle loro necropoli, vedendo da vicino alcune delle loro tombe. Di tombe ce n'erano di tre tipologie, soprattutto. Le tombe ipogee, cioè quelle tombe che erano create sottoterra oppure scavate nelle pareti rocciose, vi erano le tombe cosiddette a tumulo, cioè quelle tombe alle quali abbiamo già accennato la scorsa volta, fatte come se fossero delle collinette, realizzate con dei riporti di terra, come se fosse un coperchio delle tombe, sulle quali cresceva poi l'erba. Ecco, e poi le tombe a edicola, e cioè le tombe a edicola, e cioè a tempietto. Questa è la traduzione di questa parola. Ecco, vediamo le tombe ipogee. Le tombe ipogee avevano anche la possibilità di permettere l'ingresso, soprattutto quelle poste sulla parete rocciosa, da una sorta di dado, così veniva chiamato, che era una chiusura fatta proprio cubica, che permetteva attraverso una porta di entrare in queste tombe. Queste tombe che venivano realizzate, lo dice la parola stessa, ipogee, ossia sottoterra che coperte nella roccia, si accede passando attraverso una scalinata, che è stata oggi rifatta per poter permettere un accesso agevole, quindi si arriva in un grande atrio, lateralmente vi sono delle cubicola, che sono delle altre stanze che conservano quelle che sono gli strumenti necessari alle onoranze funebre, e quindi vi è poi una grande stanza che si chiama atrio. Questa stanza è lo specchio di quello che era, diciamo così, il luogo dove gli abitanti della casa si ritrovavano di più, come se fosse oggi un soggiorno, e proprio per questo diventa il luogo principale di questa tomba. Questo dovrebbe farci pensare, e soprattutto ci suggerisce che gli etruschi realizzavano queste tombe pensando alla casa in terra, la casa che li avrebbe ospitati dopo morte doveva avere le caratteristiche di quella che era la loro casa quando si viveva in una vita terrena. Questo serviva ancora, come avevamo visto già per gli acroteri e le antefisse, a esorcizzare la morte, a avere un passaggio verso il mondo dell'aldilà in maniera più docile, in maniera più gioiosa, contornarsi cioè di quelle caratteristiche che facevano parte delle loro case in vita. In particolare nella tomba che vediamo oggi, la tomba detta dei Volumni o dei Velimna, così era il nome originale etrusco di questa famiglia, una famiglia aristocratica, conserverebbe sette urne cinerarie proprio in questa grande stanza che sta sul fondo, una di queste in marmo. Gli etruschi usavano pochissimo il marmo, lo troviamo proprio raramente, usavano al posto del marmo normalmente il cosiddetto nemfro. Il nemfro era una sorta di tufo più compatto che permetteva una lavorazione e quindi essendo più duro si poteva anche sculturare. Ma che cos'è il tufo? Il tufo è una pietra vulcanica, una pietra calcarea, mista a una pietra calcarea, alla silice ed è una pietra che ha una sua capacità di assorbimento dell'umidità un po' spugnosa ed è proprio adatta per questi luoghi diciamo anche sotterranei. Il tufo era la pietra più utilizzata dagli etruschi e nel caso della tomba dei Velimna abbiamo questi sette contenitori, queste sette urne cinerarie che vedete hanno una dimensione piuttosto elevata, somigliano a dei piccoli sarcofagi, uno è fatto a tempietto ed è proprio quello in marmo, dove sono state addirittura sculturate le figure delle persone delle quali i ceneri sono all'interno di queste urne che sono appoggiate come se fossero su delle cline, cioè quei letti che usavano anche i romani con un bracciolo rialzato e poi intorno a un tavolo quadrato prendevano il nome di tre clini perché erano tre di questi letti su tre lati e un lato veniva lasciato libero per poter servire a tavola i commensali. Ecco, quindi vi era una ricostruzione di una condizione domestica proprio per il motivo che dicevo prima e in questo caso si parla di urne cinerarie che contengono le ceneri e i resti dei defunti come la maggior parte no della rappresentazione scultore etrusche per le necropoli e in particolare una parte intravertino questa pietra che assomiglia al marmo è molto diffusa nel Lazio in Toscana pietra molto chiara e una in marmo ecco ma vediamo più nel dettaglio che cosa sono queste urne cinerarie l'urna cineraria serve lo dice la parola stessa per contenere le ceneri perché gli etruschi avevano l'abitudine di incenerire i propri corpi cremare i propri corpi supire con pensate scaldate a oltre 900 gradi centigradi e allora uno si domanderebbe oltre alle urne cinerarie a che cosa servivano i sarcofagi perché sono stati ritrovati anche dei sarcofagi ne vediamo uno quello degli sposi quei cosiddetti sarcofagi degli sposi vediamo che è un vero e proprio sarcofago fatto in terracotta con un coperchio al di sopra vi sono delle figure umane che rappresenterebbero una coppia lui vedete con una certa pingue che vuole segnalare la sua posizione aristocratica elevata e poi con la moglie a fianco non vuol dire che in questo sarcofago che era un urna cineraria ci stessero le cenere di entrambi no questa figura di compagna di vita moglie di quello che aveva le ceneri all'interno del sarcofago stava a segnalare un momento di gioia della vita di questa persona e quindi questo avrebbe accompagnato in maniera più diciamo serena il defunto nell'aldilà ecco quindi di questo urna cineraria cineraria di vario genere vi erano anche ad esempio i vasi canopi i vasi canopi erano simili a quegli egizi avevano un'altezza che andava da un mezzo metro un metro e mezzo circa erano però non conservavano ovviamente le interiora un po' come invece facevano gli egizi per poter poi mummificare il resto del corpo conservavano i resti dell'incenerimento del defunto avevano una base che veniva chiamata trono normalmente realizzata in bronzo che serviva a collocare sopra l'urna cineraria che era in forma antropomorfa vedete la parte sotto del corpo del vaso rappresentava il corpo del defunto la parte sopra che chiudeva questo corpo era la testa del defunto con questo taglio un po' a caschetto e questo sorriso molto arcaico molto primitivo ricordo un po' i corai greci e quindi queste anse che erano in manici che rappresentavano le braccia quindi forme antropomorfe per conservare le ceneri ecco quindi abbiamo visto nella necropole dei Monterozi questi contenitori fatti a casina con all'interno le urne con le ceneri abbiamo visto questi vasi canopi a forma antropomorfa che contenevano le ceneri i sarcofagi vi erano vari modi di esprimere quelli che devono essere questi contenitori questi cinerari che devono contenere i resti del defunto ecco adesso spostiamoci in un'altra forma di tomba che è quella a tumulo di cui vi parlavo la scorsa volta parlando della collina di quel tumulo enorme che c'è a Vulci in particolare a Cervetteri vi è un'estensione molto ampia di queste tombe a tumulo che sono proprio dei riporti di terra danno l'assembianza di una collinetta servono come coperchio al resto della tombe poi sopra viene fatto crescere il prato da anche l'impressione di un enorme formicaio ecco entrando in una tomba a tumulo si ritrova la scala poi un grande dromo se vi ricordate il corridoio molto lungo che c'era anche nelle tombe micenee quindi delle cubicola laterali che sono delle altre stanze che possono conservare altri defunti della famiglia e quindi una grande sala a tolos sembra proprio una tomba micenea ecco questa stanza a tolos però ha una finta cupola detta pseudo cupola che è fatta grazie all'appoggio di tutta una serie di lastre a scalare e come punto centrale vi è un grande monolito potremmo dire un meniro un grande monolito verticale che si chiama tamburo al quale va a appoggiarsi questa sorta di volta a tolos e fuoriesce talune volte proprio dalla collinetta cioè da questo tumulo per segnalare la presenza di questa tomba ecco anche queste tombe tolos vengono intagliate in maniera da ricordare la casa in terra del defunto tanto è vero che se uno alza la testa in queste tombe che siano esse ipogeo che siano esse a tumulo si nota che è stato ricostruito proprio l'andamento delle falde del tetto con le proprie travi proprio come se fosse una casa ecco una tomba interessante di questo genere ma con una struttura un po' diversa è la cosiddetta tomba dei rilievi ecco la tomba dei rilievi è una tomba che ha proprio dei rilievi in terracotta distribuiti in tutta questa grande estensione di questa tomba vi sono dei pilastri che la sorreggono questa è tutto sculturato sulle pareti ed intorno vi stanno gli oggetti della vita terrena come ad esempio i cucchiai come ad esempio le pentole come ad esempio tenaglie c'è tutto ciò che serviva alla vita terrena e quindi ci sono anche proprio dei insomma degli scavi che assomigliano proprio a luoghi tipo cubicola dove si poteva dormire come se fosse un luogo per poter dormire sembra quasi fatto apposito anche perché viene anche sculturato addirittura il cuscino in terracotta quindi si ricrea tutto l'ambiente domestico per dare questo senso di vicinanza a quella che era stata la vita e a coloro che hanno accompagnato la vita terrena anche gli oggetti stessi che permettono quindi di accedere nell'aldilà allontanando con questo modo quasi gioioso di passare nell'aldilà i demoni che potrebbero provocare il disorientamento da quelli che sono i rispettivi dei scusate ecco continuando ci troviamo adesso nella tomba e a edicola la tomba edicola è una tomba come vi dicevo la parola edicola vorrebbe dire proprio tempietto è una sorta di tempio una sorta cioè di cappella di famiglia cioè oggi la chiameremmo così ha la forma del tempio ha anche proprio per questa pendenza delle falde la forma della casa ma è una tomba e quindi è tutto il percorso della vita cioè da quella che è la vita terrena la preghiera e il trapasso nella vita successiva ecco ovviamente queste tombe in base alla grandezza potevano essere più o meno tombe di persone più o meno aristocratiche ecco mi piaceva adesso accennarvi a una tomba una delle oltre 250 tombe affrescate che si trovano nella necropoli dei Monterozzi a Tarquinia vi ricordo però che l'estensione dell'intera necropoli di Tarquinia ricopre oltre 6.000 tombe circa un 250 sono affrescate e non proprio affrescate da quegli artisti che approdavano al porto di Gravisca di Tarquinia e servivano diciamo queste famiglie aristocratiche nel dipingere nel rallegrare anche le proprie tombe e questo ci deve dimostrare che il passaggio per gli etruschi nell'aldilà doveva essere un passaggio gioioso in particolare questa tomba si chiama la tomba delle leonesse vedete che ci sono due grandi felini e poi vi è affrescato una sorta di gazebo vedete molto allegro con una serie di quadretti colorati e persone che danzano inebriate una danza una festa a Dioniso pensate che proprio per questo accostamento a questo dio siamo intorno al 520 avanti Cristo ormai è la fine dell'ultimo re Tarquinio è superbo Roma sta per diventare una repubblica e l'influenza anche dei romani ormai è presente ecco queste due leonesse chiamate leonesse per la verità sembrerebbe che siano delle pantere pantere perché la pantera era un animale sacro proprio a Dioniso e quindi questa è una grande festa di gioia di balli di insomma convivialità che in qualche modo rallegra il passaggio nella vita ultraterrena il trapasso ecco ma come venivano realizzati questi affreschi questo è anche importante come viene realizzato un affresco un affresco non può essere realizzato tutto di botto se noi abbiamo alcuni metri di questo affresco come capita proprio in queste tombe dobbiamo calcolare nella giornata quanto viene realizzato perché l'affresco deve essere fatto proprio a fresco cioè quando il muro è fresco immaginatevi queste mura in tufo in pietra calcarea etrusche che vengono prima ricoperte da un primo strato che viene detto rinzaffo fatto di torba fatto di paglia e questo strato serve da base per poi fare l'arriccio e cioè metterci sopra l'intonaco fresco sull'intonaco viene poi incisa la figura che si vuole realizzare e che si vuole colorare colorandola con colori che vengono tratti o dalla da pietra che vengono utilmente pestate sminuzzate e miste a colori tratti dalle terre ecco i pennelli sono pennelli con pelo di animale ecco questi contorni però che venivano incisi nell'intonaco fresco si è scoperto ultimamente la possibilità di una tecnica di cui prima non si era conoscenza osservando queste figure si noterebbe che vi sono alcuni punti che sembrano a specchio sia nelle braccia nelle gambe nelle teste e quindi sembrerebbe che gli etruschi utilizzassero anche dei gli stampi è un modo di dire erano proprio dei profili metallici che assumevano le svariate forme venivano appoggiate all'intonaco fresco creavano il profilo che veniva poi dipinto all'interno insomma una metodologia alquanto interessante che ricordo un po' i cartoni preparatori che facevano proprio i grandi artisti del rinascimento io vi ringrazio per la cortesa attenzione concludiamo qui la seconda puntata sugli etruschi vi rimando un terzo appuntamento per tirare le conclusioni su questa civiltà che è rimasta misteriosa per anni e ora sembra rivelarsi nei colori e nella gioia di un popolo che amava la vita grazie a risentirci da Marino Ferraris ciao